buongiorno a tutti buongiorno benvenuti a questo webinar di oggi un webinar attendo due minuti mentre vi saluto per farvi entrare tutti quanti il webinar di oggi ha un titolo che esprime già la connessione tra gestione documentale e transizione digitale vedremo poi i risvolti di questo titolo andremo più in profondità io intanto vi do il benvenuto sperando che mi sentiate mi sentite si sente bene datemi un riscontro per cortesia va bene allora andiamo avanti e io sono alessandra cornero sono responsabile dell'ufficio gestione documentale di form e spia e oggi ho il piacere di introdurre e coordinare questo webinar un webinar che si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale sulla conservazione tra regione Emilia Romagna e form e spia webinar in cui affronteremo con i nostri relatori il tema del rapporto tra gestione documentale e transizione digitale o meglio i nostri relatori ci illustreranno alcune azioni relative a gestione documentale e conservazione che sono utili e anche necessarie per il cambiamento culturale e digitale che tutti noi auspichiamo e cambiamento che deve necessariamente partire da un punto base sul quale credo che siamo tutti d'accordo i documenti sono da sempre alla base di tutte le attività delle pubbliche amministrazioni e su questo non ci piove e questo comunque sicuramente da molto tempo prima del digitale purtroppo però ciò che riguarda i documenti si tratti della loro formazione gestione e conservazione viene ancora in molti casi affrontato nell'epia come adempimento e raramente ci sono amministrazioni che colgono le opportunità di semplificazione di snellimento di risparmio di tempo e di costi che una buona gestione documentale può consentire o che comunque sono consapevoli del fatto che la gestione documentale è un'attività tanto importante quanto strategica per la transizione digitale obiettivo di questo webinar è appunto condividere attraverso le conoscenze le esperienze di una regione quale l'Emilia Romagna utili indicazioni per riuscire a far cogliere le opportunità e i benefici di una buona gestione digitale di documenti e di archivi. Certamente sappiamo che una buona gestione digitale così come un'effettiva transizione digitale per realizzarsi ha necessità, lo ripetiamo spesso in molti luoghi ma anche nei nostri stessi webinar sul tema che ha necessità di un forte commitment della struttura, di un coinvolgimento organizzativo di tutta l'amministrazione, di competenze specifiche e di cambiamento culturale. Ma un'importante chiave di volta per il cambiamento è sicuramente anche la messa a valore e la condivisione di infrastrutture, di conoscenze e risorse digitali da parte delle amministrazioni. E qui parliamo, si sarà capito, di reti e di comunità tematiche, comunità di pratica, comunità professionali ma comunque comunità su specifici temi. Infatti con il webinar di oggi presenteremo con i nostri relatori che cosa? Sia alcune riflessioni specifiche sul tema e sul tema appunto su tutto quello di cui abbiamo parlato, su gestione documentale, su conservazione, su transizione digitale, ovviamente senza poter anche per questioni di tempo approfondire tantissimo. Ma sia in particolare vedremo un'interessante esperienza di condivisione, di conoscenze e di cooperazione istituzionale che è stata sviluppata dalla regione Emilia Romagna. Si tratta in generale di quella che viene chiamata appunto Community Network Emilia Romagna, l'acronimo ECNER, all'interno della quale sono state individuate delle comunità tematiche, cioè che sono proprio dei veri e propri strumenti realizzati e messi a disposizione della pubblica amministrazione locale dell'Emilia Romagna affinché con il fine, affinché l'attuazione del passaggio al digitale sia un processo che si avvale della collaborazione di tutti quanti e proprio con il fine di non lasciare nessuno escluso o indietro. Di che cosa parleremo e come? Ne parleremo di tutto questo, sia dei temi che delle esperienze, attraverso gli interventi dei tre co-coordinatori di una di queste comunità tematiche della regione Emilia Romagna, quella denominata appunto Documenti Digitali e li vado a presentare. Giampiero Romanzi comincerà oggi, Giampiero è archivista della soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna e a partire proprio dall'esperienza di queste comunità tematiche ci darà una serie di spunti interessanti sulla gestione documentale in quanto proprio motore dell'innovazione. A seguire della conservazione della sua importanza e centralità nella transizione digitale e di cosa è stato realizzato come regione Emilia Romagna, ci parlerà a seguire Gabriele Bezzi, responsabile della conservazione della regione Emilia Romagna. E sempre nell'ambito dell'esperienza delle comunità tematiche e in particolare della comunità documenti digitali ci presenterà alcune interessanti esperienze per lo sviluppo delle competenze della gestione documentale Silvia Ghiani, che è appunto archivista della regione Emilia Romagna. Prima di passare alla parola al dottor Romanzi, che intanto invito ad attivare telecamere e microfono, vi ricordo appunto che il webinar si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale sulla conservazione tra Forme SPA e regione Emilia Romagna. Vi invito, come di consueto, a porre le vostre domande nella chat e vi dico fin d'ora che slide e registrazione dell'incontro saranno disponibili nel pomeriggio o comunque quanto prima e che potete porre le vostre domande e cercheremo alla fine degli interventi di rispondere insieme ai relatori. Auguro buon webinar e buon lavoro a tutti quanti, ringrazio fin d'ora i nostri relatori e do la parola a Giampiero Romanzi della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Regione, Emilia Romagna. Grazie Alessandra, mi sentite bene, spero di sì. Grazie Alessandra, grazie anche a Stefania Mulas e Alessandra Cornero, insomma le colleghe di Formez che hanno permesso la realizzazione di questo webinar e ci hanno supportato con grande capacità. Saluto tutti i presenti, io mi riprometto di raccontare con molta semplicità, insomma un po' qualche spunto nei minuti che abbiamo a disposizione della nostra esperienza, appunto come diceva Alessandra, dell'esperienza emiliano-romagnola, una esperienza dove, grazie alla Regione Emilia Romagna, il processo di transizione digitale della pubblica amministrazione, condiviso, quindi quando si parla di cooperazione istituzionale, si parla di condivisione dei vari livelli istituzionali, dicevo in Emilia Romagna questo tipo di processo si è ritenuto di governarlo in modalità partecipata. la gestione documentale motore dell'innovazione è appunto il titolo del mio intervento. La modalità partecipata e condivisa è appunto quella delle comunità tematiche, uno degli assi portanti dell'agenda digitale dell'Emilia Romagna, che furono costituiti ormai cinque anni fa nel 2017, con l'obiettivo appunto di realizzare un'amministrazione digitale e aperta tramite forme di cooperazione tra soggetti diversi che si confrontano con l'obiettivo di discutere e condividere buone pratiche. Cosa c'è in fondo a questa intuizione? Una constatazione molto semplice, che questo processo è stato e credo continuerà ad essere un processo a forte impatto, cioè che ha tante implicazioni, lo diciamo sempre, culturali, organizzative, tecnologiche, istituzionali, tante implicazioni e quindi diciamo che la ricetta per fare bene non è né appannaggio di una singola professionalità né appannaggio di un singolo livello istituzionale, ma la cooperazione è veramente il coniglio che si toglie dal cappello, nel senso che lo abbiamo constatato in questi cinque anni di collaborazione, si vince soltanto insieme, raramente, non è soltanto un principio astratto, raramente abbiamo visto progetti di digitalizzazione riusciti, applicazioni e risultati ottenuti, se non tramite la convergenza di professionalità e spesso anche di istituzioni di livello diverso. Siamo stati noi, infatti, come soprintendenza nel 2017 a proporre l'istituzione di una specifica comunità tematica proprio sul tema dei documenti digitali. Questo insomma la dice abbastanza lunga, nel senso che in realtà la soprintendenza, avendo la mission di esercitare la tutela sugli archivi anche correnti e anche digitali, in realtà la tutela nel nostro ordinamento si estrinseca e si declina eminentemente tramite autorizzazioni, di fatto, e quindi tramite procedimenti autorizzativi che potrebbero essere eletti in una mera ottica, diciamo, di adempimento. Invece, proprio perché, con un atteggiamento piuttosto umile, proprio perché sapevamo che non avevamo ricette, abbiamo detto forse questa modalità, cioè quella delle comunità tematiche, cioè gruppi di lavoro allargati, dove dirigenti, informatici, archivisti, responsabili del sistema documentale, della gestione documentale, dirigenti amministrativi, responsabili della transizione digitale, possano in qualche modo confrontarsi su determinati temi, cioè sui temi e soprattutto sulle cose concrete, cioè non tanto sulle filosofie del digitale, quanto piuttosto su come fare per. Ecco, il sistema delle comunità tematiche, noi vedete ci siamo, appunto, infilati in questa struttura che era già piuttosto robusta, ci sono quattro grandi aree tematiche, servizi digitali della pubblica amministrazione, amministrazione digitale, infrastrutture abilitanti, poi trasformazione digitale e gestione del cambiamento, dentro al tema della grande area tematica dell'amministrazione digitale si è istituito, appunto, la comunità tematica sui documenti digitali. Abbiamo oltre 100 iscritti, comuni, unione di comuni, amministrazioni provinciali, c'è una partecipazione molto alta, molto diffusa e capillare. Certo, non raggiungiamo tutti, ma voi capite che oltre 100 persone che collaborano e lavorano sono veramente un risultato importante in termini di capillarizzazione delle tematiche e delle conoscenze. Naturalmente il gruppo di lavoro dei documenti digitali non è un gruppo di lavoro che porti avanti, diciamo, gli approfondimenti tutti insieme. Abbiamo costituito, diciamo, un modello abbastanza performante, adesso non dovrei dirlo io, però, un modello abbastanza proficuo, per cui a seconda noi mettiamo sul tavolo due o tre tematismi particolari che ci sembrano rilevanti per gli enti, e qui abbiamo la fortuna, appunto, che i coordinatori siano in soprintendenza e in regione e quindi hanno quotidianamente la possibilità di rapportarsi e confrontarsi con tematiche e criticità che nascono dal territorio. Quindi noi, diciamo, selezioniamo alcuni tematismi importanti, segnalatici dal territorio e poi piccoli sottogruppi più agili, più leggeri, istruiscono queste tematiche proponendo poi all'intero gruppo e ai coordinatori dei testi o delle soluzioni o delle linee guida. Ecco, come comunità, infatti, abbiamo, e ho messo anche, vedete, c'è anche il link ai nostri prodotti, dal 17 fino a quest'anno abbiamo prodotto quattro documenti abbastanza importanti che abbiamo chiamato linee guida, forse con una presunzione antelittera, ma non sapevamo che poi, appunto, l'articolo 71 del CAD sarebbe stato declinato con l'emanazione di linee guida Agid, oppure le linee guida sulla digitalizzazione, insomma, eravamo in tempi non sospetti, quindi ci sentivamo di poter dire, almeno a livello regionale, che i nostri documenti erano linee guida, quindi indicazioni, consigli, no, su come affrontare determinati temi. Il primo fu quello della riorganizzazione dei servizi archivistici a seguito di fusione dei comuni, quindi una tematica importante perché in quel frangente in regione parecchie, c'erano diverse, non parecchie, c'erano diverse situazioni in cui a seguito di referendum alcuni piccoli comuni si fondevano a formare, cioè cessavano di esistere per costituire un comune più grande, con diversi benefici che la regione aveva messo in campo. Naturalmente questo comportava seri problemi di integrazione e di uso dei beni archivistici e abbiamo ritenuto di dare alcuni consigli su questo tema. Poi nel 18 linee guida sulla digitalizzazione delle pratiche edilizie, anche in questo caso avevamo, come dire, intuito che questo tema della digitalizzazione del cartaceo, delle pratiche analogiche stava diventando un tema importante e quindi l'abbiamo affrontato cercando di dare consigli perché avevamo notato che molti enti poi procedevano un po' a tentoni su questo fronte e devo dire che con soddisfazione che diverse intuizioni, diverse indicazioni che sono scritte in quel documento sono state poi recepite dal Ministero della Cultura e dalla Digital Library quando ha emanato le linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Quindi in qualche modo il nostro lavoro è stato così corroborato da queste linee guida. Invece quest'anno abbiamo rilasciato due altri documenti, uno è sull'approvvigionamento informatico per la gestione documentale, anche qui indicazioni su un tema molto importante perché dalla scelta degli applicativi, insomma dalla scelta dei software dipendono poi anche procedure, modalità di lavoro e gestione di dati e documenti, quindi abbiamo cercato di segnalare che la componente di gestione dei dati e dei documenti quando si va ad approvvigionarsi in campo informatico non è una variabile di ultimo livello di appendice ma è uno dei punti cruciali da tenere presenti al fine anche di evitare smembramenti logici dei nostri sistemi documentari. Quindi le strutture a canne d'organo le abbiamo già ereditate dal passato, dalla prima e dalla seconda, forse anche grande stagione della digitalizzazione della PA. Oggi però c'è una maggiore consapevolezza, è maturata una consapevolezza più alta di queste necessità e quindi forse è il caso di affrontarlo in un altro modo, in modo più maturo. E poi le linee guida sui sistemi di gestione federati di gestione documentale, cioè il tentativo di dare una risposta, una prima risposta a queste nuove forme di gestione dei documenti dove il singolo ente sempre più spesso è chiamato a cooperare o ad integrarsi con altri enti per gestire servizi, procedimenti e documentazioni. E quindi in realtà la partita non si vince più soltanto in casa, ma si vince, cioè non basta più la politica interna, come dico io, ma ci vuole anche la politica estera. Quindi una buona gestione documentale non dipende solo da me, dal mio ente, dal mio archivista e dalla mia struttura, ma spesso dipende anche da altre situazioni. Ecco, poi il sistema delle comunità tematiche è proprio in questi giorni, perché abbiamo fatto degli incontri recentissimi, è proprio in questi giorni in una fase di ripensamento, di riorganizzazione, di re-ingegnerizzazione, diciamo così, perché tutti gli strumenti adottati adesso, quindi il sito, le piattaforme in cui si condividono i documenti, le modalità di comunicazione, sono in una fase di ripensamento. Quindi proprio in questi giorni c'è un rilancio del sistema delle comunità tematiche e delle comunità di pratiche che cercherà di lavorare su quei temi che vedete nella slide, quindi sulla comunicazione, sulla condivisione di conoscenze, sulla collaborazione e sui processi interni di gestione, con una gestione chiara e condivisa. Cioè si cerca di fare un salto di qualità, dopo cinque anni si cerca di rimodellare gli strumenti e le modalità di cooperazione che queste comunità hanno acceso, per così dire, hanno acceso, perché da un lato se ne è constatata la grande potenzialità, dall'altro anche i limiti che debbono e possono essere superati. Proprio per rilanciare l'attività delle comunità tematiche e fare il punto dopo la pandemia, la regione ha organizzato una serie di seminari in cui c'erano un paio di parole chiave. La prima era emergenza e allora noi abbiamo detto dopo l'emergenza sicuramente noi archivisti abbiamo capito che il nostro modo di lavorare l'hanno capito tutti, tutta la pubblica amministrazione ha rivisitato le proprie modalità di lavoro naturalmente, ma noi archivisti in particolare abbiamo capito la centralità, cioè se c'era bisogno, prima Alessandra nella fase introduttiva ricordava la centralità della gestione documentale e diceva anche che poi non tutti sono disponibili a riconoscere questa cosa. Sicuramente con la pandemia l'accesso ai fascicoli, l'accesso alla documentazione amministrativa da remoto è stato condizio sine qua non per non bloccare l'intera attività amministrativa. Quindi c'è una rinnovata consapevolezza del fatto che i documenti non stanno in un luogo e non devo essere vicino al luogo ma devono essere gestiti in modalità logica più che fisica e quindi la gestione documentale deve avere un suo posto di riguardo negli obiettivi di riorganizzazione. L'altra parola chiave è data valley bene comune, cioè l'idea che il comparto pubblico debba pensare ai propri dati come a un bene comune da condividere e mettere a disposizione. Su questo tema appunto noi archivisti abbiamo detto, la nostra comunità ha detto attenzione perché i dati non sono soltanto quelli dello stato gassoso delle banche dati o che troviamo in rete, tutti i nostri documenti sono pieni di dati, nel senso che la nostra documentazione, la documentazione archivistica e l'archivio sono una miniera di dati. Qual è la differenza fra il dato grezzamente inteso, diciamo così, e il dato presente su un documento? Che i dati e le informazioni che stanno sui documenti hanno delle caratteristiche di stabilità, di provenienza, di reperibilità, che il dato di per sé non avrebbe, cioè riescono a fornire alle informazioni un contesto di governo e di gestione assolutamente più solido di quanto non sia il dato primitivamente inteso e una solida prassi gestionale per tutto il ciclo di vita dell'informazione. Ecco l'archivistica, cioè l'archivistica non è soltanto una disciplina storica e diciamo una disciplina che organizza gli archivi a valle, cioè questa è una un'archivistica desueta per così dire, o comunque può ancora valere soltanto nella misura in cui io devo governare anche degli archivi storici. Ma oggi per la comunità complessiva il vero valore aggiunto della disciplina archivistica che appunto aggredisce, vedete, nel ciclo di vita della documentazione, sia sulla formazione, sia sulla gestione, sia sulla conservazione, ha la capacità di gestire professionalmente dati e informazioni della pubblica amministrazione, creando dei sistemi documentari che sono appunto il motore dell'innovazione. Vedete, questa tripartizione è la stessa che trovate nelle linee guida Agid, però capite quanto per noi queste riflessioni siano sostanziate di assunti disciplinari, no? Che ci danno una certa, ci danno una certa sicurezza sull'affrontare questi temi. È per questo che noi abbiamo detto, sì, data valle i beni comuni, ma anche e soprattutto records valle i beni comuni, cioè i beni comuni non sono soltanto i dati, ma i documenti che appunto non contengono solo informazioni, ma diritti, obbligazioni, sono in particolare oggetti sociali, molti di voi magari ricordano le riflessioni di Maurizio Ferraris, del filosofo sulla documentalità e su quanto oggi la nostra società si regga digitale finché vuoi, ma si regga fondamentalmente sulla documentazione. Quindi i documenti sono un bene comune che hanno bisogno di cura, di salvaguardia, di valorizzazione. Tant'è che appunto nel nostro ordinamento poi i documenti pubblici sono, articolo 10,2 del codice dei beni culturali, sono beni culturali. Quindi il documento amministrativo informatico, come lo definiscono le linee guida, è un bene culturale per il nostro ordinamento, aborigine, fin dall'origine. E quindi necessita di tutta una serie di attività ed impimenti che lo, come dire, che lo mettano al centro della tutela. Quindi è vero che l'archivio è motore dell'innovazione, non soltanto, ecco questo è molto importante secondo me, l'archivio è motore dell'innovazione non soltanto in qualità di sistema informativo interno, di sistema informativo dell'organizzazione che lo produce, ma l'archivio pubblico è naturalmente il supporto di un cosiddetto open government, cioè di un governo aperto. E questa invece è una realtà che, a mio avviso, è una strada, ne parliamo spesso anche insieme su questo tema, questo tema viene fuori spesso, è una grande occasione per costruire la trasparenza di un open government. Io ho riportato qui appunto l'inizio di un manuale di open government dello Stato di Washington e vedete che l'esordio di un manuale sulla trasparenza e sull'open gov è questo, il Public Records Act stabilisce chiaramente che un'agenzia deve rendere disponibile per la consultazione o la copia tutti i documenti pubblici. Quindi in realtà, mentre io lavoro ad una corretta gestione documentale, sto già proponendo un servizio, sto già proponendo un'attività che ha un riscontro verso l'esterno. Questa però appunto, questa opportunità del cosiddetto FOIA italiano, per riprendere appunto il Freedom of Information Act di Obama, il FOIA italiano, cioè il decreto 33 2013 poi rivisitato nel 2016, vedete che però già nel nostro ordinamento si dice chiunque ha diritto all'articolo 5 di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quegli oggetti di pubblicazione ai sensi del decreto. Quindi in realtà il decreto da un lato fissa un pacchetto di tipologie documentarie che debbano essere esposte e pubblicate per dare trasparenza e assicurare trasparenza nei confronti del cittadino e dell'impresa. D'altro canto però dice ma tutti ulteriori, cioè il stato di Washington dice tutti, l'Italia dice oltre a quegli oggetto di pubblicazione ulteriori documenti devono essere messi a disposizione. Purtroppo noi non abbiamo, non abbiamo cavalcato tanto, forse anche la stessa comunità archivistica potrebbe e dovrebbe fare di più su questo. Qui riprendo appunto una considerazione che condivido fatta da Alessandro Alfier che dice l'ampiezza di questa fattispecie di accessibilità rappresenterebbe un'occasione ideale per relazionare finalmente l'esercizio concreto della trasparenza con l'uso degli archivi in formazione detenuti dagli apparati pubblici, ma incredibilmente essa non viene colta. Cioè permane ancora un po' un'idea dell'archivio come back office, come dispositivo ad uso di un'organizzazione per funzionare meglio. In realtà invece, ecco vedete i flussi documentali e chiudo dicendo che, sto guardando un po' le considerazioni se c'è qualche cosa. In realtà invece i flussi documentali supportano, a nostro avviso, tutte le variabili e istituzionali e tecnologiche e organizzative e di processo. Per esempio, non abbiamo tempo, ma prendiamo soltanto il discorso del processo. Io ho fatto tantissimi incontri, tantissime riunioni con informatici, direttori generali eccetera. Sta di fatto però che molto spesso l'istanza archivistica che siede al tavolo è l'unica che cerca di ragionare in termini di processo, perché il documento, il fascicolo, il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali sono tutti strumenti che per la forma mentis archivistica, devono essere sincronizzati sui processi, cosa che non sempre le nostre organizzazioni pubbliche riescono a praticare. Quindi io penso che spingere l'acceleratore sul piano della gestione documentale apra simultaneamente diversi fronti di innovazione per la transizione digitale e questa è la strada che dobbiamo sicuramente cercare di percorrere insieme. Giampiero, non so se hai finito? Sì, sì, sì. Ah, ok. Attendevo un tuo via prima di introdurlo. Allora, intanto ti ringrazio molto, veramente riflessioni interessanti, ma in particolare ci sarebbe molto da aggiungere, anche tante domande da fare, purtroppo dobbiamo correre, ma una cosa in particolare secondo me vale la pena sottolineare appunto un elemento a cui si pensa veramente raramente, cioè il fatto appunto l'archivio pubblico sia come bene comune, sia come come dire, come come strumento di open government, a cui veramente si si pensa poco, ma la considerazione che hai fatto tu sull'open archive diciamo che rimane ancora purtroppo un sogno, ma perché no, i sogni ci aiutano in qualche modo a combattere e ad andare avanti, no? Non so se ci sei ancora, se no nel frattempo poi magari questo potrebbe essere comunque appunto un argomento, me lo auguro anche da approfondire nei successivi webinar che faremo insieme. Intanto do la parola a Gabriele che vedo che ha già attivato la sua, Gabriele Bezzi, che ha già attivato la sua webcam e lo lascio subito parlare appunto del tema e quello che si vede anche nel titolo, cioè la centralità della conservazione e della transizione digitale. Gabriele prego, ti lascio la parola, ti ringrazio. Grazie Alessandra, spero che mi sentiate bene, chiedo una conferma. Ovviamente appunto il mio intervento cerca di portare avanti le esperienze fatte in Regione Emilia-Romagna, l'indicazione delle esperienze fatte in Regione Emilia-Romagna, sul tema della conservazione che è un tema centrale nella transizione digitale perché proprio gli elementi che si è accennati, cioè il fatto che l'archivio è un bene culturale e i singoli documenti sono beni culturali e la necessità che siano beni pubblici accessibili nelle forme, nei modi, ma comunque accessibili, reperibili e mantenuti nel tempo rendano necessario che nella fase di passaggio da un sistema di gestione documentale tradizionalmente basate su documenti cartacei e invece a sistemi informatici si mantenga però l'elemento fondamentale appunto dei documenti che è la conservazione, cioè il mantenimento appunto di tutte le informazioni contenute nei documenti nel tempo, oltre che la possibilità di essere reperibili nello spazio e accessibili facilmente e questo il digitale aiuta, invece il mantenimento nel tempo lo aiuta un po' meno. Il tema della conservazione quindi è definito nelle nuove linee guida con appunto le linee guida Agid, insieme di attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive di un sistema di conservazione, parliamo di sistema e a governare la gestione in relazione al modello organizzativo adottato, cioè essenzialmente un sistema interno o un sistema esterno, garantendo nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità dei documenti. Queste caratteristiche sono quelle che garantiscono appunto la qualità dell'informazione che può mantenersi nel tempo e che non sono solo semplicemente dei dati, ma dati autentici, informazioni autentiche, integre, reperibili e leggibili e questa è la sfida della conservazione nel tempo. Come si diceva appunto quindi l'attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti, dati informatici, è tipicamente svolta all'interno di un sistema di conservazione dedicato a queste funzioni e è nell'ambito della valutazione generale che gli archivi sono parte del patrimonio culturale del paese costituendo il tessuto della memoria nazionale e quindi sono sottosposti alla disposizione del codice dei beni culturali, come ha già detto Giampiero Romanzi. Ovviamente la conservazione si intende anche degli originali cartacei o un ragionamento sul fatto che comunque gli originali sono oggetti di conservazione, sia cartacei sia informatici e il mantenimento e l'eventuale eliminazione deve essere gestita, controllata e guidata con processi guidati e autorizzati. C'è una citazione di un documento del 1632 che come vedete attualmente è disponibile in rete, io tratto questa piccola sezione se uno riesce a leggerlo da un documento pubblicato in rete adesso, però appunto che già all'epoca dice che nulla è più utile di un archivio ordinato ed è utile non solo appunto perché è inteso per secondare diritti soggettivi, interessi legittimi, il diritto di accesso alla ricerca e in questa frase appunto del Seicento far prevalere i diritti e la ragione rispetto a quanto si dice in modo anche violento e non documentato. Questo mi sembra una riflessione che viene dal passato ma a quanto mai attuale e quindi questa è una delle funzioni, ordinare e rendere accessibile e conservare nel tempo mantiene questi aspetti di conoscenza, di capacità di rappresentare i diritti collettivi o singoli e la possibilità di basare ogni riflessione su dati certi, autentici, integri, affidabili e non su elementi d'altro tipo. Faccio una rapidissima, vi ho lasciato ma questo rapidissimo appunto che quindi ovviamente sul tema conservativo e gestione documentale incidono diversi riferimenti numerativi come abbiamo visto il codice dei beni culturali, i due documenti, i testi base, il testo unico sul documento amministrativo e il CAD con quelli che ne discendono, le linee guida e l'ultimo specifico sulla fornitura di servizi di conservazione è il regolamento Agid che supera il concetto appunto di conservatori accreditati verso una nuova forma di validazione dei conservatori che possono appunto svolgere attività di conservazione, gestire i sistemi di conservazione e offrire servizi di conservazione per le pubbliche amministrazioni. Nell'ambito generale delle norme europee ricordiamo l'AIDAS e il GDPR, cioè il tema della protezione dei dati personali che ovviamente è un elemento anche di contemporazione con appunto l'accesso generalizzato che si diceva prima e infatti quindi le altre norme sono accesso e trasparenza e la tutela dei dati personali e uno specifico appunto codice di deontologia, regole deontologiche per il trattamento e fin di archiviazione nel pubblico interesse che è il termine ufficiale che sul GDPR usa e che ribadisce, quella è l'attività conservativa perché si conservano i documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di ricerca storica. Quindi l'articolo 43 del CAD dice che gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti dagli effetti di legge a mezzo ai documenti informatici, e questo è il tema dei documenti di origine cartacei, i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati in modo permanente con modalità digitali. Quindi questa è l'affermazione che io per conservare documenti nativi, digitali, oggetto della trasformazione verso il digitale, appunto che ad esempio l'emergenza e la pandemia ha accelerato fortemente, debbo conservarli con modalità digitali e con le migliori modalità possibili per garantire nel tempo il mantenimento delle informazioni con le caratteristiche che mi hanno detto, fatti salvi potere di controllo del Ministero alle beni e attività culturali e del Ministero della Cultura. Perché? Perché ricordiamo appunto gli archivi, i singoli documenti sono un bene culturale, è sanzionato l'eventuale violazione e l'obbligo di conservare correttamente l'archivio nella sua integrità e organicità ed è vietato smembrare gli archivi e lo Stato ha l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e ordinarli. Quindi ordinare vuol dire gestione del sistema di gestione documentale che permette la nascita di un sistema documentale ordinato e il mantenimento di questo ordine o la revisione dell'ordine nel futuro. Ricordo anche che ci sono sanzioni penali per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, articolo 490 del Codice Penale e anche un recentissimo aggiornamento al Codice Penale che inserisce i reati e i delitti contro il patrimonio culturale, tra cui l'articolo 518 con diverse specificazioni, tra cui questa distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso illecito di beni culturali, chiunque distrugge, disperde, soprattutto disperde o deteriora o rende in tutto o in parte inservibili e non fruibili beni culturali, quindi anche documenti d'archivio, e punito con la reclusione eccetera eccetera. Questo ve lo segnalo come forse può essere sfuggita questa novità inserita nel Codice Penale. Nelle linee guida tratta in vigore appunto il primo gennaio di quest'anno si specifica che la conservazione viene fatta con trasferimento dal sistema di gestione documentale al sistema di conservazione di fascicoli informatici chiusi e serie informatiche chiuse, quindi strutture di archivi ordinate, come si diceva, ma anche di documenti in esso contenuti sulla base di specifiche esigenze dell'ente e con particolare attenzione per i rischi di obsolescenza tecnologica, cioè il processo conservativo può anche essere parallelo alla produzione documentare per garantire che meglio la tenuta appunto dei documenti nativi digitali per evitare il rischio di obsolescenza tecnologica. Ad esempio appunto il sistema, cioè si è visto in questi anni, ormai sono più di vent'anni che si ragiona su questi temi, che si era partita da un'idea che ad esempio la conservazione su supporti fisici come i CD e cose via fosse uno strumento idoneo alla conservazione, attualmente non è così. Abbiamo visto la rapida obsolescenza dei supporti fisici e quindi è un elemento invece che è necessario trasferire in un sistema che si preoccupa di mantenere nel tempo quelle caratteristiche, quindi di valuti i formati, valuti la possibilità di mantenere leggibili i documenti e mantenga l'organizzazione e l'ordine appunto iniziale dell'archivio e quindi gli elementi appunto di rischio di obsolescenza tecnologica sono presenti fin da subito e quindi il tema conservativo deve essere posto fin da subito. Quali sono gli elementi appunto per gestire questi passaggi? Il sistema di conservazione dice le linee guida garantisce l'accesso all'oggetto conservato per il periodo previsto dal piano di conservazione, cioè indipendentemente dall'evoluzione del contesto tecnologico. Il piano di conservazione o appunto la valutazione di valore di mantenimento nel tempo di questi documenti può anche prevedere una conservazione permanente e quindi il sistema di conservazione dovrebbe garantire il mantenimento indipendentemente dall'evoluzione del contesto tecnologico e quindi cambiamento del contesto tecnologico superare l'obsolescenza tecnologica nel lunghissimo termine. Quindi è un sistema di conservazione logicamente distinto dal sistema di gestione documentale che dovrebbe essere più finalizzato invece alla gestione corrente dei documenti e ci sono appunto indicazioni di standard e di analisi dei formati per ragionare su questi aspetti. Di nuovo la fase cruciale appunto di passaggio tra il sistema di gestione documentale e il sistema di conservazione viene definita che deve essere stabilita almeno una volta all'anno deve prevedere il responsabile del sistema di gestione documentale a trasferire al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentare anche relativi a procedimenti non conclusi, questo è inserito nell'articolo 44 del CADA da cui riprendono le linee guida, sulla base di un piano di conservazione, cioè di una valutazione anche di definire i tempi quando sia necessario trasferire i documenti al sistema di conservazione analizzando sia la prospettiva di tenuta nel tempo di quei documenti sia appunto eventuali rischi che quei documenti possono avere fin da subito. e questo è un elemento appunto quindi che la valutazione della obsolescenza tecnologica deve essere fatta sia nel momento in cui il produttore produce i documenti valutando ad esempio di usare formati che al momento siano ritenuti più idoni per la conservazione e sistemi appunto idoni per la conservazione e poi ovviamente deve essere valutata anche in sede conservativa perché è un'attività di costante monitoraggio nel tempo della situazione. Ecco ricordo che questo trasferimento è soggettato all'obbligo di autorizzazione da parte della sovrintendenza del Ministero della Cultura nel caso degli enti locali oppure comunque dal Ministero è soggettato appunto dagli organi competenti del Ministero e quindi all'autorizzazione al trasferimento. Ecco, ribadisco appunto il tema della conservazione per gli archivi e il piano di conservazione un piano che per la questione di criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione per il periodico e di conservazione permanente era già indicato anche nell'articolo 68 del 445. L'elemento quindi come abbiamo visto appunto di raccordo fondamentale, di ordinamento da un lato di definizione unitaria dell'archivio in base a un piano di classificazione e fascicolazione, in base a un piano di conservazione e che deve tenere presente le caratteristiche peculiari degli oggetti digitali, tema formati e tema metadati. Questo appunto non si può approfondire perché ormai siamo alla fine. Quali sono quindi gli strumenti? Da un lato abbiamo il manuale di conservazione, di cui non mi soffermo però segnalo che appunto la comunità tematica ha prodotto un manuale di conservazione utile come riferimento per l'amministrazione del territorio regionale, in particolare tutte le amministrazioni che adottano il conservatore regione Emilia-Romagna e in futuro appunto svilupperemo anche ragionamenti per la definizione del piano di conservazione. non su due cose distinte. Il manuale illustra il sistema di conservazione. Il piano di conservazione definisce tempi e modalità di rapporti tra sistema di gestione documentale e sistema di conservazione. Come dicevo appunto la regione Emilia-Romagna in realtà non solo partecipa e ha promosso la sistema di comunità tematica ma in tema conservativo ha sviluppato proprio un proprio polo di conservazione. Quindi la regione Emilia-Romagna è un conservatore per gli enti del territorio e l'idea del polo è stata anche ripresa appunto nell'ultimo documento, nel recente documento di indirizzo di Agis pubblicato nel giugno del 21 proprio sui progetti di polo di conservazione a cui rimando. Questa idea dal punto di vista della regione Emilia-Romagna è stata sviluppata con una normativa specifica in cui la regione si assume appunto la conservazione, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale per diversi enti e per altri soggetti pubblici che vogliano convenzionarsi e accordarsi con essa, questo vado via rapidamente, e quindi che ha definito appunto uno specifico soggetto pubblico che svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale per la regione e tutti gli enti soprattutto del servizio sanitario regionale nella logica di sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e economicità. Anche qua la cooperazione, il coordinamento e la condivisione di esperienze e di sistemi è un elemento importante per arrivare a avere sistemi efficienti per la transizione digitale, perché quindi per garantire risparmi di efficienza si è concentrato sul soggetto specializzato una funzione complessa come quella della conservazione degli oggetti digitali. Questo appunto è il polo archivistico, per usare termini di uno standard OIS che è lo standard internazionale di riferimento appunto per i servizi e sistemi di conservazione di tipo archivistico, quindi una struttura organizzata di persone e sistemi che accetta la responsabilità di conservare, lo standard parla di informazioni e nel caso specifico appunto di informazioni in forma di documenti amministrativi informatici e rendere disponibili a una comunità di riferimento il tema della disponibilità appunto dell'accesso comunque un elemento di riflessione fondamentale. Questa idea devo dire che nell'ambito ormai dieci anni che si è sviluppata e in accordo subito anche con la sovrittenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna e la quasi totalità regionale, gli enti locali e anche istituti scolastici del territorio regionale hanno diritto a questa idea, a questo soggetto di polo archivistico e anche altri enti di altri territori e appunto come dicevo quindi la visione e permette il sistema di conservazione di avere una visione dei dati e dei archivi pubblici come bene comune condiviso tra le pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali e salvo casi documentati propriamente motivati utilizzabili dalla società civile. Il tema dell'interoperabilità è stato recentissimamente declinato la settimana prossima la settimana scorsa è uscito un documento di Agit frutto di un gruppo di lavoro appunto all'interno di Agit con la collaborazione di diversi poli di conservazione pubblici sul tema proprio anche delle interoperabilità tra i sistemi di conservazione. Ma l'idea di interoperabilità in una visione appunto come diceva anche Giampiero Romanti di visione complessiva degli archivi come modalità di accesso e di condivisione di dati la regione Emilia Romagna l'è anche sviluppato addirittura all'interno di procedimenti in uso in cui ad esempio sul tema del deposito dei piani urbanistici si è utilizzato il sistema di conservazione per permettere lo scambio e la condivisione di documenti di grande pesantezza anche dal punto di vista digitale utilizzando proprio l'archivio condiviso, il sistema condiviso di conservazione che permette di accedere anche alla regione Emilia Romagna direttamente ai documenti conservati nell'archivio e quindi l'archivio diventa anche uno strumento di comunicazione immediata dei documenti conservati quando risolvendo problemi di difficoltà di scambio tradizionale di questi oggetti digitali molto pesanti e quindi dando anche una grande semplificazione collegata a una certezza documentale autenticità e conservazione nel tempo. Questo è stato applicato anche per i progetti di ricostruzione del Sisma del 2012 e quindi per riassumere l'esperienza del polo archivistico dell'Emilia Romagna si è più qualizzata su creazione di un polo di conservazione, sperimentazione e definizione di modalità di acquisizione, individuazione di un'ipotesi e organizzazione dell'archivio digitale partendo da definizioni specifiche di unità documentaria, lo sviluppo di un sistema di conservazione delle sue funzionalità sempre più avanzate anche in tema di accesso e il tema di condivisione di diffusione e diffusione di esperienze anche proprio partecipando alla comunità tematica. Per concludere ricordo che appunto la funzione di conservazione non è solo quella di mantenere alterate nel tempo le sequenze binarie di oggetti trattati ma soprattutto quella di assicurare nel tempo la possibilità di accesso e funzione per costruire gli archivi storici del futuro perché come concludo sempre la conservazione degli atti in archivio ha uno scopo positivo, ben determinato, tangibile, vale a dire quello di rendere utile la generalità degli individui e agli individui stessi. Grazie. Grazie a te Gabriele, anche tu perfettamente nei tempi che è una cosa molto importante per riuscire ad arrivare anche allo spazio delle domande e delle risposte. Volevo sottolineare soltanto una cosa riguardo al fatto, all'ottima distinzione che abbiamo ripetuto con te oggi ancora una volta tra il piano di conservazione e il manuale di conservazione. Volevo ricordare che a proposito del manuale di conservazione abbiamo da poco fatto proprio un webinar, sempre nell'ambito di questo ciclo, il 16 novembre se non erro, lo potete vedere la registrazione proprio con Gabriele Bezzi sul manuale specifico sul manuale di conservazione e invece per quanto riguarda il piano di conservazione ci auguriamo introdurre questi argomenti in maniera più specifica in uno dei prossimi webinar del ciclo. Vero Gabriele? Certamente, certamente. Va bene, ti ringrazio molto e adesso do subito la parola, prego Silvia di attivare la sua webcam e Silvia adesso ci parlerà del terzo argomento fondamentale, dopo gestione documentale e conservazione e la loro importanza, adesso passiamo all'importanza delle competenze ma in particolare all'importanza del loro sviluppo. Silvia ti do subito la parola e poi ci risentiamo dopo, mi disattivo. Grazie Alessandra, spero che mi sentiate tutti. Io voglio anche ringraziare Formez per l'opportunità che ci dà di parlare, di raccontare la nostra esperienza e speriamo di darvi anche delle suggestioni interessanti e ringrazio Formez anche per sempre per l'ottima organizzazione di queste attività e ringrazio voi che a quasi l'una siete qui ad ascoltarci e raccontare questa esperienza. Allora io vi parlerò dello sviluppo delle competenze sulla gestione documentale all'interno appunto dell'attività della nostra comunità tematica. Lo sviluppo delle competenze per noi è sempre stato fin dall'origine un pilastro della nostra comunità, tant'è che possiamo dire che proprio la comunità fonda le sue radici sullo sviluppo delle competenze in quanto la primissima attività che la comunità ha fatto è stato proprio un ciclo di seminari di formazione rivolto agli archivisti di tutta la regione sul manuale di gestione documentale e dopo di che per tutti gli anni continuamente la comunità tematica ha sempre cercato di sviluppare qualcosa dei prodotti, dei servizi, delle attività in merito all'ambito formativo. Infatti come vediamo da questa slide la comunità tematica si è occupata moltissimo appunto di formazione, di attività formative sempre sulla base diciamo di quelle che erano le esigenze che ci venivano mostrate dal nostro gruppo di lavoro, tarate sulle competenze necessarie ai responsabili della gestione documentale, responsabili della conservazione per portare avanti le attività, per migliorare, per adempiere alle nuove normative che via via si sono presentate eccetera. Quindi una formazione molto specialistica diciamo così rivolta a queste figure lasciando un po' a loro chiaramente poi l'onere, l'onore diciamo di traghettare le informazioni necessarie a tutto il resto della platea del personale della pubblica amministrazione che necessita a sua volta di uno sviluppo di competenze su questi temi. Recentemente invece, diciamo il grosso del mio intervento oggi si tarerà su questo aspetto, abbiamo cercato, ci siamo posti il tema di come aiutare queste figure a fare quest'ultimo passaggio, cioè come possiamo aiutare i responsabili della gestione documentale della conservazione a portare queste competenze a tutto il resto del personale dell'amministrazione che sia tecnico che amministrativo che chiaramente è vastissimo e che magari è, anzi assolutamente, è un'attività questa di passaggio di competenze molto faticosa all'interno dell'amministrazione e quindi ci siamo posti questo tema. Quello che abbiamo fatto, allora come, per quello che riguarda diciamo la formazione ai responsabili della gestione documentale della conservazione in questi anni cosa abbiamo fatto? Siamo partiti, come vi diciamo, come si vede da questa slide in ordine inverso, da un ciclo di seminari sul manuale di gestione, ciclo di seminari in presenza ovviamente fatto nel 2017, poi nel 2018 abbiamo fatto un seminario sui progetti di digitalizzazione delle pratiche edilizie che chiaramente si ricollega all'attività di cui parlava Giampione Romanzi prima, di creazione di queste linee guida, quindi ad accompagnamento abbiamo creato anche un seminario con cui in parte si spiegava gli aspetti metodologici inseriti all'interno della linea guida e in parte chiaramente gli attori che stavano facendo questo tipo di attività hanno illustrato i loro casi pratici, concreti, diciamo, con anche chiaramente tutte le problematiche che questo comporta. Quindi abbiamo tenuto insieme diciamo i due aspetti prodotto linea guida e formazione, diciamo così, ok? L'anno successivo, nel 2018, l'anno successivo nel 2019 abbiamo fatto un seminario su gestione e conservazione documentale nella transizione digitale nuove linee guida Agile, quindi in quel momento non erano chiaramente ancora entrate in vigore le nuove linee guida, però si stavano già girando delle bozze e quindi noi abbiamo iniziato a formare, informare il nostro pubblico, diciamo i nostri soci, diciamo così, della comunità su quali erano le cose, che impatto avrebbe avuto queste nuove linee guida sull'operatività, cosa c'era di nuovo, eccetera eccetera. Quindi anche lì molto in anticipo anche rispetto a quello che poi è stata effettivamente entrata in vigore delle linee guida. Successivamente con la pandemia siamo passati a, non abbiamo potuto fare ovviamente per causa pandemia, non abbiamo potuto fare dei seminari in presenza, però siamo passati a fare, a organizzare, grazie sempre alla collaborazione e all'aiuto di Formez, della formazione a distanza nella forma di webinar. Abbiamo fatto due webinar su lo smart working a tema, smart working e gestione documentale nel 2020. per quanto riguarda invece l'aspetto formazione al resto della, diciamo, della platea dei nostri colleghi, degli enti. Che cosa ci siamo, qual è stata la scintilla, diciamo, che ci ha fatto pensare a questa attività. Noi periodicamente facciamo delle attività di censimento, diciamo, delle survey nei confronti dei nostri colleghi per capire quali sono le esigenze concrete del momento. E alcune di queste, in particolare una survey che è stata fatta soprattutto nei confronti degli RTD, ha fatto emergere come ostacolo alla dematerializzazione, alla digitalizzazione, all'ammodernamento digitale, alla trasformazione digitale delle amministrazioni, la mancanza di competenza o, se volete, la resistenza da parte del personale, il cambiamento alla transizione digitale. E allora noi ci abbiamo iniziato a interrogarci su come postavamo, come la nostra comunità tematica, poteva dare una mano in questo senso. E quindi ci siamo detti, beh, l'obiettivo di una qualsiasi azione è quello di produrre un impatto positivo e reale sulla gestione documentale nell'ente, quindi a 360 gradi su tutta l'amministrazione, quindi non solo su qualcuno. E come si può fare questa cosa? Bisogna partire dal fatto che, appunto, se ci sono delle resistenze perché il personale non è preparato a questo cambiamento culturale. Però nello stesso tempo è vero che le amministrazioni, vuoi perché ci sono sempre troppi indempimenti, vuoi perché è costoso, vuoi per tante motivazioni, non investono perché non c'è tempo. Insomma, per tutta una serie di motivazioni non viene fatto un investimento nel reale cambiamento culturale dei dipendenti, sui dipendenti pubblici e di conseguenza alla fine la formazione si limita ad essere un mero addestramento di utilizzo di un software che sia il protocollo informatico che sia qualsiasi altro software, nuovo software che si palesa nell'amministrazione che viene selezionato per essere utilizzato, alla fine la formazione si riduce a clicca qui, clicca lì. Allora questo non è chiaramente un cambiamento culturale, non si può chiamare in questo modo e per forza costituirà sempre, dal mio punto di vista, una resistenza da parte del personale a questo genere di cambiamenti. Allora come si risolve questo problema? Bisogna cercare di creare consapevolezza sulla gestione documentale, soprattutto digitale ovviamente, ma in generale sulla gestione documentale, nel senso che ci sono comunque anche nella gestione documentale analogica, ci sono molti punti oscuri per i nostri colleghi e di conseguenza appunto l'attività è quella di cercare di migliorare questo aspetto della consapevolezza per creare solidità, per togliere le paure. Se io sono consapevole di che cos'è una gestione documentale digitale, di dove sono i rischi, ma anche di come si risolvono, quali sono le soluzioni, nel momento in cui mi verrà proposto la sostituzione del mio sistema di protocollo piuttosto che del sistema verticale che utilizzo per fare i miei processi, procedimenti, eccetera, sarò più solido nell'accettare anche il cambiamento e nel poterlo affrontare, ok? E quindi la resistenza cade, la consapevolezza crea, diciamo, un supporto al fatto che si possa superare queste resistenze. Quindi come facciamo a fare questa cosa? Abbiamo pensato che sia necessario uniformare, alzandolo di livello, la competenza media del personale a 360 gradi, cioè a tutti. E come possiamo ottenere questo risultato? Abbiamo deciso di costruire una formazione in e-learning che potesse essere, diciamo, distribuita su tutto il personale dell'ente e nel modo in cui adesso vedremo. Quindi, sia, ripeto, sia tecnico che amministrativo, non solo amministrativi. Quali sono le caratteristiche di questo course in e-learning che abbiamo realizzato? Allora, abbiamo realizzato 90 brevi pillole di 2-3 minuti, circa, che vengono fruite, che possono essere fruite in autoapprendimento da parte dei colleghi. Un po' come bere un caffè, un po' come una pausa, diciamo, pausa dal lavoro, guardo una pillola molto veloce. Inframmezzate queste 90 brevi pillole, oltre alla giornata di presentazione del corso, ci sono tre sessioni in presenza, diciamo, in attività di gruppo, che servono da approfondimento da una parte e da, diciamo, spiegazione delle cose che magari dalle pillole potranno essere poco chiare, diciamo, no? Quindi, superamento dei dubbi, ok? Eventuali. Queste tre fasi sono particolarmente, queste tre giornate sono particolarmente importanti perché le pillole, diciamo, costruiscono lo scheletro standard del corso, mentre queste sessioni in presenza vengono poi costruite sulla base dell'esigenza specifica del lente, ok? Quindi vengono costruite insieme all'archivista del lente, ok? I contenuti sono divisi in tre gruppi, teoria archivistica, normativa di riferimento, esempi concreti, quindi sono tre format, diciamo, essendo pillole video, sono tre format diversi e sono scritte in un linguaggio semplificato, non tecnico, non tecnico informatico fondamentalmente, ma neanche tecnico archivistico. Cioè abbiamo cercato veramente di tradurre in un linguaggio naturale, il più naturale possibile, quelli che sono i concetti e i punti chiave, diciamo. della teoria archivistica nella normativa e poi fornire degli esempi concreti in merito veramente alla quotidianità. Quindi il focus è proprio gli esempi, più sugli esempi concreti che sulla teoria e sulle normative. Le teorie normative sono viste come un approfondimento dell'esempio concreto, questo è un po' il pilastro, diciamo, l'idea di fondo e infatti nel numero delle 90 pillole la percentuale maggiore è proprio sul format degli esempi. come eroghiamo questo corso? Il corso viene erogato su una piattaforma regionale in modalità gratuita, gratuita nel senso per gli enti del nostro territorio perché in questo momento l'erogazione è pensata esclusivamente per gli enti del nostro territorio, anche perché siamo partiti l'anno scorso. Scusate, siamo partiti quest'anno, quindi è proprio una news in un certo senso. E cosa forniamo? Oltre alla piattaforma gratuita e al corso gratuito forniamo anche un supporto full distance, non è un corso lasciato totalmente alla fruizione degli utenti da soli ma è accompagnato, è assolutamente accompagnato e sarà sempre così nel senso che è fondamentale, è assolutamente fondamentale accompagnare un corso di questo genere. La prima erogazione è avvenuta tra maggio e ottobre 2022, quindi ha preso anche il periodo estivo, quindi che non è banale. C'erano 28 persone iscritte, il corso è stato terminato da 22 persone, qualcuno si è dimesso nel frattempo e quindi non ha terminato il corso, altri per questione di tempo non sono riusciti a terminarlo, però insomma una buona percentuale è riuscito a terminare il corso. Dei quattro incontri che abbiamo fatto, alcuni appunto estivi, il 67% ha presenziato queste giornate in presenza che non erano obbligatorie, le pillole sono a fruizione obbligatoria, diciamo tutte ai 90, mentre la partecipazione agli incontri non è obbligatoria, però il 67% ha partecipato, da qui l'hanno trovato utile, diciamo, venire a queste sessioni anche se appunto è un periodo un po' complicato. In ultimo ho dato oggettivo del miglioramento, è questo, all'inizio del corso noi sottoponiamo i nostri colleghi a una scheda di autovalutazione, delle domande di autovalutazione e poi chiaramente a fine corso devono fare un'altra attività di autovalutazione, un'altra attività di valutazione finale e come vedete la media della competenza è passata da un 5,7 a un 8,1, quindi c'è stato oggettivamente un grosso miglioramento delle competenze di queste 22 persone. Io vi mostro questa TAC Cloud che è costituita dalle parole che i colleghi, abbiamo chiesto ai colleghi che hanno partecipato al corso, di dirci con parole loro come avevano vissuto, diciamo, questo corso è un po' una TAC Cloud che esprime il loro pensiero e devo dire che una delle cose più belle è stato proprio sentire i nostri colleghi dirci grazie perché abbiamo capito delle cose su cui veramente, cioè le facevamo senza capire cosa stavamo facendo, perché ci è stato detto fai così e noi abbiamo fatto così. Adesso siamo molto più consapevoli e questo è tutto un altro modo di lavorare. E già questo, al di là di quello che è l'impatto reale poi della gestione documentale, è una cosa secondo me anche a livello personale molto positiva. Ultima cosa che vi dico, qual è il piano di formazione per il 2023 che ci stiamo diciamo organizzando in questo momento, questo corso di alfabetizzazione informatica, sei nuovi enti hanno chiesto di aderire al progetto, per cui nel 2023 faremo dai 6 ai 10 corsi, circa 50 persone l'uno su questo corso. Quindi andremo a formare tra le 300 e le 500 persone nell'arco del 2023 con questo corso. In più continueremo la collaborazione, la ottima collaborazione con Formez, cercando di organizzare degli altri degli altri corsi, degli altri webinar scusate, come questo. E adesso il calendario ovviamente non siamo in grado di darlo in questo momento, però più o meno per darvi una suggestione, i temi che vorremmo affrontare sono, come si diceva prima, il piano di conservazione alla luce delle linee guida Agid, i modelli organizzativi integrati e la digitalizzazione e il censimento degli archivi ibridi in fase di trasferimento di competenze tra un'amministrazione e l'altro. Questo è un po', quindi state collegati con noi perché questi saranno i prossimi temi che tratteremo e basta direi io ho finito e grazie a tutti. Eccoci qua di nuovo, grazie tantissime Silvia, grazie per aver sottolineato ancora una volta l'importanza della consapevolezza della della gestione documentale della della diffusione della cultura. Mi viene mi viene mi viene una domanda da fare quasi a tutti i partecipanti se qualcuno ha per esempio già avviato per esempio dei corsi interni su di formazione o di sviluppo delle competenze rivolte non tanto agli addetti ai lavori perché questa è una cosa che normalmente si fa chi più chi meno ma quanto proprio a tutto a tutti il personale dell'ente o degli enti sarebbe interessante sapere se queste iniziative sono state intraprese in particolare con la pandemia e quindi con la diffusione digitale la mancanza o le carenze della consapevolezza sui temi della gestione documentale o su come si forma il documento stesso ad esempio sono esplosi e quindi grazie per questa iniziativa grazie per avercela raccontata e appunto sarebbe interessante sapere in quali altre amministrazioni noi personalmente abbiamo intrapreso un breve percorso ma piuttosto intenso a questo proposito rivolto appunto a tutti quanti per cercare di di sensibilizzare sempre di più appunto non solo gli operatori ma quanto tutti perché tutti sono coinvolti in questo in questo giro adesso se non so che cosa stanno rispondendo comunque adesso passiamo alle alle domande che sono state poste mentre mentre parlavate mentre i relatori parlavano appunto grazie per esservi collegati tutti quanti e in particolare appunto io rivolgo subito la domanda del secolo a Bezzi a Gabriele che è una domanda che che comunque torna insistentemente diciamo in quasi tutti i seminari sulla conservazione che riguarda il formato zip si tratti di documenti che si tratti di conservazione ed è una domanda che come si dice adesso come si usa a dire adesso ci sta perché è un problema credo che accomuni molti molti di noi appunto non so se le lette di Giuseppe Marino no poiché i file del formato zip sono ammessi e questo è una affermazione comunque in caso nel momento in cui la trasferiamo al sistema di conservazione intanto che succede mi permetto di inserire questo mi faccio questo inserto ma chi si occupa di verificare l'obsolescenza tecnologica dei file impacchettati quindi allora appunto il formato zip è un formato di impacchettamento ed è un formato utile per lo scambio di documenti di oggetti digitali ma non è un formato utile per il mantenimento di quegli oggetti nei sistemi perché impedisce la conoscenza di quegli oggetti perché l'elemento specifico non è lo zip ma è i formati dei documenti contenuti quindi la necessità sarebbe quella di aprire in ogni caso gli zip l'ideale sarebbe nel momento in cui si ricevono dall'esterno ad esempio anche il sistema di protocollo dovrebbe aprire lo zip e acquisire al sistema il contenuto anche per permettere una verifica che effettivamente il contenuto dello zip sia rispondente a quanto inviato e registrato a protocollo e lo zip non contenga invece anche potenzialmente oggetti malevoli e non coerenti comunque con quanto era stato richiesto e in questo caso appunto le trasmissioni via protocollo lo zip sarebbe da totalmente sconsigliare e quindi a questo punto una volta che è entrato il documento lo zip spacchettato dopo tutti i successivi passaggi si possono mantenere valutando gli specifici oggetti digitali e i singoli file il tema dello zip è un tema che in molti casi anche noi ad esempio usiamo in realtà nei pacchetti di distribuzione l'invio tramite zip è per mantenere un'unità certa di documenti che si trasmettono in realtà ormai gli attuali sistemi permettono appunto il concetto tipico di OIS di pacchetto ma anche lo stesso concetto di messaggio protocollato o sistemi interoperabili di protocollo dovrebbero garantire la possibilità di scambiarsi documenti garantendone l'unità appunto in un concetto che noi abbiamo elaborato con l'idea di unità documentaria quindi il livello minimo di aggregazione necessaria per capire e per gestire all'interno dell'archivio l'insieme dei documenti che si legano tra di loro pensiamo a un atto con i suoi allegati e così via e trasferirle appunto non usando lo zip ma usando questi metodi migliori lo zip è anche usato per ridurre appunto le dimensioni quindi in certi casi necessario per ridurre le dimensioni ma una volta acquisiti i sistemi dovrebbero essere in grado di gestirli anche con le dimissioni originali dei documenti quindi di fatto come dicevo prima l'attenzione ai temi di obsolescenza e di conservazione va posta fin dall'inizio della formazione o dell'acquisizione dei documenti nei sistemi di gestione documentale e poi viene rafforzata e mantenuta nel tempo nei sistemi di conservazione ovviamente il sistema di conservazione se riceve uno zip per gestire i formati e per valutare appunto anche il contenuto che non sia un contenuto malevole deve aprire lo zip e verificare il contenuto specifico e acquisire nei pacchetti di archiviazione i documenti nel loro formato originale e non in forma zip per poi magari rigenerare in futuro uno zip per la distribuzione ma nel momento della conservazione non è il formato zip che viene conservato non so se ho risposto alla domanda per me sì, Giuseppe Marino, ci sei ancora? allora risponde Giuseppe Marino allora se il sistema di gestione documentale per l'associazione che già hanno formato zip e P7M sono da evitare? sarebbero da evitare perché poi ormai non sono più necessari anche con tutto il livello di rete, di circolazione cioè lo zip era un pensiero anche di una situazione informatica in cui l'attenzione a ridurre al massimo le dimensioni per lo scambio di dati era importante attualmente può essere superata e da un punto di vista di conservazione assolutamente va superato perché tra l'altro la firma zip e P7M è una firma che in realtà nel momento in cui non firma gli oggetti interni ma firma il pacchetto e un pacchetto in questo modo è un pacchetto che viene difficilmente mantenuto nel tempo quindi adesso ad esempio i formati anche pdf permettono integrazioni di più documenti in modo molto facile quindi sarebbe molto più semplice in tal senso esatto questo fa parte della formazione della consapevolezza e di tante altre cose conferma anche le due osservazioni che sono state dette successivamente sia da Giuseppe Marino che da Francesco Genitore Ok e quindi concludiamo con chi si occupa della verifica dell'obsolescenza tecnologica Gabriele? il conservatore io penso di rispondere allora come dicevo tutti e due nella fase di produzione ci vuole attenzione e poi ovviamente i conservatori i sistemi di conservazione porteranno avanti questa attenzione per valutare nel tempo perché noi adesso abbiamo dei formati che riteniamo corretti per la conservazione e in grado di tenere nel tempo ma non è detto che appunto se parliamo di conservazione permanente cioè potenzialmente il più a lungo possibile che nel futuro non ci sia necessità di dover valutare ad esempio adesso per dire uno dei formati tipici non tanto di elementi testuali ma di immagini come il tif che era all'inizio considerato anche un formato molto utile per la conservazione attualmente viene considerato un formato ormai non più sviluppato e quindi a rischio di obsolescenza e quindi non più utile per c'è un con l'attività conservativa e ci sono anche a livello internazionale dei gruppi che operano proprio in tal senso e proprio quello di mantenere costantemente monitorato il livello di affidabilità e di possibilità appunto di dei formati per mantenerli nel tempo quindi i conservatori sono sicuramente un punto di riferimento anche per dare consigli al produttore perché il loro mestiere è proprio quello di verificare quello però l'attenzione deve essere partire dal produttore per poi proseguire nella conservazione esatto quindi consapevolezza non in favore di jpeg dico francesco direttore al volo ma di un nuovo formato pdf anche in questo caso perché jpeg è un formato compresso e quindi ha delle difficoltà anch'esso dunque un'ultima domanda sono stessa scusa gabrielle poi chiudiamo chiudiamo l'argomento stavi dicendo qualcosa no no e sul ultima domanda non credo non sono sicura ad averla ad aver colto l'invio dei link dai quali scaricare i documenti non so se stiamo parlando di di altre modalità di invio allora capisco bene cioè tipo i transfer ovviamente appunto bisogna distinguere le modalità di trasmissione e l'invio del link ad esempio anche noi abbiamo condiviso dei link in chat per poter far accedere e appunto condividere e la logica della condivisione dell'accesso condiviso degli elementi fondamentali dalle modalità di conservazione cioè io vi ho mandato il link se poi voi volete e quel sito dovrebbe essere mantenuto spero che nella riorganizzazione delle comunità tematiche non si perdono ma i link sono degli oggetti che tradizionalmente possono anche perdersi se io voglio conservare i documenti che sono in quei referenziati in quel link debbo scaricarmeli e di acquisirmi nel mio sistema questa è la sicurezza più assoluta per me di conservare e quindi a questo punto il link non mi interessa più perché c'è il documento che ho scaricato da con da quel link perché in ogni caso i link sono possono essere temporanei e possono essere a sistemi che sono non nel mio controllo e quindi come un sito web ad esempio potrebbe tranquillamente poi essere cambiato ed è uno dei drammi devo dire che anche tanti documenti anche sulla conservazione che vengono referenziati in vari testi adesso non sono più disponibili in rete perché il sito non è più accessibile o ha cambiato indirizzo banalmente e quindi dopo diventa però quel link non è più non risponde più al vero quindi il link anche questo come lo zip mezzo di trasmissione temporaneo ma poi messa stabilizzazione acquisendo i documenti o aprendo spacchettando gli zip grazie Gabriele credo che possiamo con questo possiamo concludere ci sta qualche domanda sui sui corsi di cui ha parlato silvia silvia se vuoi dire qualche cosa ancora vuoi aggiungere diversi qualcosa se è possibile accedere al al corso anche per chi non è di regione miglia magna e allora diciamo che in questo momento noi stiamo appunto lavorando con i singoli enti della regione per portare il corso su questi enti quindi in questo momento non stiamo pensando a migrazioni del corso e erogazioni del corso fuori dalla regione e diciamo che in futuro potrebbe potrebbe manifestarsi questa questa opportunità però è tutta è tutta da studiare in questo momento chi invece magari di della nostra della nostra regione e vorrebbe iscriversi indipendentemente dal lente può scrivere una mail al mio indirizzo e poi chiaramente magari vediamo cosa si può fare questo senso sì certo comunque interessante è interessante vedere anche in chat che qualcuno ha risposto anche dice io lo faccio tutti i giorni questo corso con i miei colleghi io combatto tutti i giorni sul campo e insomma è tutti stanno così qualcuno ha anche fatto qualche mi è sembrato di leggere che ha avviato già qualche iniziativa quindi come dire sempre nel sogno di creare un giorno una bella rete tra tra tutti forse si potrebbero mettere a fattor camone anche le diverse esperienze realizzate da da tutti quanti anche considerando appunto per esempio il progetto di cui appunto forse immagino che voi lo conosciate delle competenze digitali del dipartimento della funzione pubblica e del syllabus che ha una parte dedicata proprio alle competenze digitali per tutti su vari termini ma anche su quello della gestione documentale e chiedo a giampiero se vuole aggiungere qualcosa appunto concludiamo col motore dell'innovazione diciamo qualche qualche ma guarda prima di prima di cominciare mi ero preso un appunto allora lo sfrutto visto che ho lavorato cinque minuti prima di cominciare mi ero preso degli appunti e dicevo ma alla fine ricapitolando poi non ho avuto tempo naturalmente io avevo quattro pilastri dell'innovazione perché la gestione documentale è motore di innovazione il primo pilastro è normativo perché chiaramente la nostra normativa è il primo il primo provvedimento sul valore giuridico del documento informatico è del 97 quindi è una delle è uno dei campi dove il legislatore è più investito fin da dalla fine degli anni 90 il secondo è quello che ho già detto prima c'è il patrimonio informativo c'è anche un tema di knowledge management che non si che non si tratta quasi mai ma l'archivio non è soltanto il deposito dei documenti anche digitali è diciamo il sistema della conoscenza di un'organizzazione nella società dell'informazione non si può fare a meno dell'informazione l'informazione è una risorsa non è un deposito statico ma è una risorsa da mettere a regime il terzo aspetto è quello del ridisegno dei processi cioè è motore dell'innovazione perché l'archivistica soprattutto gli archivi correnti e digitali si confrontano sistematicamente con la struttura dei processi operativi e quindi ragiona per processi prima ancora degli organizzativisti cioè non avevamo bisogno degli organizzativisti per sapere che si lavora per processi e l'unità di misura dell'organizzazione è il processo il ruolo e la responsabilità noi lo sapevamo già e alla fine il quarto pilastro è il servizio l'archivio non è un deposito ma è un servizio al cittadino ed è un servizio all'impresa grazie giampiero credo di poter concludere appunto innovazione sì va rileggendo le domande che sono arrivate se qualcuno è interessato ai corsi quelli che abbiamo fatto non al corso di alfabetizzazione archivistica ma ai precedenti ci sono tutti i video alla pagina che trovate dei prodotti della comunità alla pagina che trovate delle slide di giampiero quindi è comunque che ho anche linkato in chat esatto che hai trattato Gabriele Gabriele ha dato già il riferimento in chat quindi li potete trovare potete inserire il link addirittura e adesso comunque lei la il web in webinar di oggi e le slide saranno disponibili sia la registrazione che le slide presto io ringrazio moltissimo i relatori innanzitutto perché sono stati tutti interventi molto interessanti speriamo a breve di poter riprendere il discorso passate le feste di approfondire i singoli i singoli elementi diciamo che sono emersi come anche molto interessanti e molto importanti è stato veramente un piacere spero che lo sia stato anche per tutti i partecipanti che sono rimasti fino a quest'ora con noi numerosi e vi ringrazio ancora ringrazio le colleghe che stefania mula se tiziana roidi che sono state con me a gestire questo questo webinar e alla prossima che dire buon natale tanti auguri a tutti e buone feste arrivederci auguri auguri buone feste buon anno buone feste arrivederci ciao ciao arrivederci